Posizioniamo la banda elastica di resistenza appena sopra le ginocchia. La posizione di partenza è in quadrupedia, in appoggio sulle ginocchia e sulle mani. In questa posizione stacca il ginocchio destro da terra e spingi la gamba verso l'alto tenendo il ginocchio leggermente plesso. Mantieni la contrattione di picco per un paio di secondi, quindi riabbassa la gamba cercando di mantenere tensione continua durante l'intero arco di movimento. Ripeti per il numero di riposizioni previste dal programma, quindi passa all'altra gamba. Ricorda di mantenere sempre il collo in linea con la spina dorsale ed evita di inarcare il dorso durante l'esecuzione del movimento.